e cominciano a proporre prodotti riscritti per le regole 3.0 e 3.5 come dire basati sui pezzi storici per cui per esempio c'è un'altra volta la city states or visible overlord fanno anche una scatola che descrive il mondo che circonda la città stato e tante altre cose questi prodotti vengono stampati con una tiratura che probabilmente non è molto alta per cui finiscono abbastanza rapidamente e alla volta sono diventati prodotti che hanno come dire un interesse collezionistico abbastanza elevato alcuni hanno un prezzo veramente alto. Un altro esempio che si può un po' forzatamente definire di gioco retro è una collana che ha cominciato a pubblicare Gary Gygax, pace all'anima sua, con la Trolllord che è praticamente come dire la pubblicazione del celebre primo Castle Grey Oak. Castle Grey Oak è questo dungeon gigantesco, colossale, immenso che aveva creato come dire nei decenni passati e che ha visto solamente la pubblicazione in pezzi e bocconi in qualche modulo o roba del genere. quando viene cacciato dalla TSR nell'85 lui porta chiaramente Castle Grey Oak con sé benché il nome sia ancora la TSR i contenuti ovviamente sono i suoi. Questa opera monumentale rimane nel cassetto per decenni dopodiché lui fa questo accordo con la Trolllord e incomincia a produrre il materiale per mostrare questo dungeon colossale. Fa uscire un primo volume che si chiama Higgsburg che fondamentalmente presenta una città base e la zona circostante al Castle Grey Oak naturalmente lui non può chiamarlo Castle Grey Oak e quindi punta su un altro nome che c'è Castle Zagig Zagig è il mago che ha creato Castle Grey Oak. La Trolllord pubblica una prima scatola che si chiama Castle Grey Oak da Upper Works che presenta i primi livelli del celebre rimo dungeon poi quando c'è come dire una separazione fra la Trolllord e Gary Gagas poi si interrompe. Ci sono voci che probabilmente continuerà con altri editori poi quando Gary Gagas muore il progetto si interrompe. Anche questa scatola qua è diventata un pezzo da collezione molto richiesto perché è di Gary Gagas perché mostra un dungeon celeberrimo perché è stirata probabilmente in poche copie per cui ha un oggettiva di difficoltà di reperimento e quindi anche questa mostra che c'è un mercato per produrre questo genere di materiale. Un altro gioco molto particolare su cui si può spendere molto velocemente qualche parola è il Hackmaster. Hackmaster è un gioco che inizialmente non esiste perché è il gioco che viene giocato in un fumetto che si chiama Knives of the Dinner Table pubblicato dalla Kenzer & Company. Questo fumetto mostra le avventure intorno al tavolo da gioco ma qualche volta anche fuori di un gruppo di appassionati che giocano ad Hackmaster. Hackmaster chiaramente è A.D.E.D. solo che non potendo chiamarlo A.D.E.D. hanno scelto il nome Hackmaster. La ditta inizialmente lo vede come una, insomma, specialmente un riferimento celato al celeberrimo titolo. Dopodiché inizia a ricevere continuamente richieste dai lettori che dicono quando l'ho fatto uscire, quando l'ho fatto uscire, quando l'ho fatto uscire alla fine si convincono e lo fanno uscire. Per farlo uscire inizialmente incaricano un autore di scriverlo da ex novo, dopodiché non sono convinti dal risultato e invece riescono a trovare un accordo con l'Aubizzo da Odecost, una cosa veramente incredibile, e ottengono la licenza per A.D.E.D. prima e seconda edizione. Loro quindi fanno questa riscrittura del regolamento che però è fedelissimo a quello che era Advance. La particolarità, oltre al fatto di essere appunto, diciamo, il figlio fedele delle prime edizioni, è che mentre l'Aubizzo da Odecost fa uscire in quel periodo la terza edizione, andando in direzione di una, diciamo, maggiore facilità di gioco, la ditta, la Kenza Renko, va in direzione opposta, cioè lo rende più complicato, e per sottolineare l'intento parodistico lo chiamano Hackmaster quarta edizione. Che caso? Chiaramente non è un caso. È chiaro che il loro contratto non è che dice potete fare quello che volete, il loro contratto dice di fare delle parodie, e quindi fanno uscire una quantità di moduli di avventure e ambientazioni che sono presi in giro, dei moduli di struttura di advanced. Per esempio è uscito Robin Loft, che ovviamente fa la parodia di Robin Loft, fanno uscire anche Hack Jammer, che è la parodia di Spiel Jammer, e poi moduli tipo The Little Keep on the Borderlands, che fa la parodia di The Keep on the Borderlands, e via proseguendo. C'è anche uno che è il peso il più richiesto, che si chiama The Temple of Existential Evil, che sarebbe appunto la riscrittura di The Temple of Elemental Evil. Questo chiaramente è un caso quasi unico di prodotto, perché è un clone su licenza del titolare dei diritti del gioco originale. Il contratto è scaduto perché la Visa non ha voluto rinnovarlo, a quanto pare perché la Kenzer & Company tendeva ad essere ultimamente un po' troppo spartana sulla parodia, è un po' troppo abbondante sul materiale giocabile. E di conseguenza purtroppo questo caso veramente incredibile non è più con noi. Castellecuseide c'è ancora. E poi c'è anche questa sequela di retrocloni che effettivamente sono tutti quanti scaricabili gratuitamente dal sito Lulù, che ormai è riferimento principale per queste cose. Oppure possono essere comprati su Lulù in forma cartacea. Facendo una passata molto veloce c'è appunto il Basic Fantasy Role Playing, che per ora è solamente in inglese, ma probabilmente dovrebbe essere tradotto anche in italiano perché c'è un gruppo che se ne sta occupando e che riprende le regole della terza versione del Classico, più qualche pezzo pescato qua e là, tipo dalla OGL e via proseguendo, ha ottenuto gli scritti consensi. C'è neanche un altro che si chiama Swords & Bittery che invece va ancora più indietro e va a prendere le regole della scatola bianca e dei quattro assomplementini, proprio per un sistema di gioco più coerente, più ordinato, ma che troverà la sua radice originale. C'è anche un altro retroclone che si chiama Dark Dungeons che invece è una perfetta riscrittura della Luciclopedia. L'autore è un po' come dire evidentemente impaurito da possibili cause regali per cui si firma solamente con lo pseudonio, però se voi l'avete visto, io ne ho visto uno, effettivamente è come la Luciclopedia scritta meglio, tanto per intendersi. Oppure questo qua è solamente in inglese. È uscito invece in italiano, Labyrinth Lord, dovrebbe essere uscito anche, penso qui in fiera, le regole avanzate di Labyrinth Lord. Labyrinth Lord riprende le regole a quelle del Classico, per intendersi, scatola rossa, blu, verde, nera e solamente in inglese color oro. Lo fa con tutta la fedeltà che sia possibile ottenere senza incappare in conseguenze legali. La traduzione italiana è fedelissima alla traduzione fatta dall'editici giochi al tempo. Dopodiché, scusate ma il tempo è quello che è, c'è anche Dungeon Slayer, così chiudiamo la carrellata, è un clone tedesco, non è un clone americano, anche lui riprende il feeling qualche pezzettino di regole qua e là, ha il vantaggio, insieme alla Labyrinth Lord, di essere stato tradotto in italiano, potete scaricarlo direttamente dal sito della Wild Board, dove è trovato anche una quantità di avventure, quelle che qualcuno qui al tavolo ha definito le avventure monopaginali, perché sono una pagina o due, Dungeonini veloci veloci, che probabilmente uscirà anche in versione cartacea, perché l'autore tedesco sta già lavorando, se ben ricordo, alla quinta edizione, per cui sta più avanti rispetto al D&D della Wiza. Quando c'è la terza, lui ha fatto la quarta, loro hanno fatto la quarta e lui lancia la quinta. sta facendo questo lavoro di preparazione, dopodiché, insomma, credo che il prossimo anno lo vedremo anche in versione cartacea, stampato probabilmente anche in italiano. Dov'è la ragazza, se l'era? Ah, ok, c'è qualche domanda al volo prima che la poliziotta ritorni per cacciarci via, se no possiamo ringraziare per l'attenzione. Se vi interessa qualcosa trovate tutto online su DM Magazine, molti dei titoli che ha citato Ciro li trovate probabilmente recensiti sulla rivista. Grazie. Grazie. Grazie.